Non si sono ancora placate le polemiche per le feste ospitate all'interno della stazione marittima di Salerno che la struttura conchiglia disegnata dall'archistar Zahadid deve affrontare una nuova polemica sulla mancata manutenzione questa volta. A conferma della scarsa attenzione il gruppo Arcan, associazione spontanea di architetti e designer, ha pubblicato una foto che mostra un albero che ha messo radici alla stazione marittima. Per questo il gruppo, dopo essere stato tra i primi a denunciare l'ineadeguatezza del bar, le cui attività sono recentemente balzate alla cronaca, oggi ha deciso di puntare l'attenzione sulla manutenzione ordinaria e la complessiva incapacità di chi deve gestire la struttura, compresa l'autorità portuale, a trattarla come quello che è un'opera d'arte di un architetto di fama mondiale e non certo il giardino di casa propria, dice Arcan, in cui accatastare sedie, vasi e piante sperando di renderlo più bello. Come è stato possibile, chiede il gruppo di architetti, che un albero infestante e a crescita rapida si insinuasse tra le insenature, mettendo anche a rischio il calcestruzzo. Infine il gruppo Arcan lancia anche un appello al buonsenso di chi di dovere fate qualcosa. Dal suo canto si sono impegnati ad inviare un dettagliato reportage fotografico allo studio Adid nella speranza di stimolare l'attenzione su scala più ampia.